Tragedia nelle ultime ore a Vallata. Prima un incendio nella notte con una macelleria completamente distrutta dalle fiamme subito dopo la morte della madre del titolare che è deceduta dopo aver visto l'attività commerciale del figlio ridotta praticamente in cenere. L'incendio che potrebbe essere anche di natura dolosa è divampato all'alba ed in alcune ore ha distrutto tutto ciò che era presente nella macelleria. La 67enne madre del proprietario della macelleria si è precipitata sul posto ed è stata subito colta da malore. Immediati soccorsi con i sanitari del 118 che hanno immediatamente disposto il trasferimento della donna in ospedale. La signora però è morta prima di giungere al pronto soccorso. Il cuore della donna non ha retto al dolore per aver visto i sacrifici della sua famiglia andare letteralmente in fumo ad intervenire chiaramente i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Vallata e di Ariano Irpino che stanno indagando sul rogo che ha completamente distrutto l'attività commerciale. Sotto shock la famiglia titolare della macelleria anche perché rispetto all'accaduto non si esclude alcune ipotesi. Lutto cittadino a Vallata e festeggiamenti in onore del santo patrono San Vito sospesi come racconta ai microfoni di Telenostra il sindaco di Vallata Giuseppe Leone il quale parla anche dello sgomento che si sta vivendo in queste ore in paese. Stamattina abbiamo avuto ci siamo Vallata si è risvegliato questo tragico episodio che cade puntualmente ecco quando ci sono dei giorni da ricordare visto che oggi è San Vito con tutta sincerità quando mi hanno avvisato questa mattina la polizia municipale sono rimasto senza fiato. Sgomento in paese festeggiamenti interrotti per San Vito sì sì anche perché ci conosciamo bene ci sono anche dei rapporti familiari quindi abbiamo deciso unitamente al parroco al comitato di sospendere i festeggiamenti e proclamare il lutto cittadino. Come ha reagito Vallata a questa notizia sindaco? È una cosa veramente che ci è caduta ci è caduta purtroppo come fulmine da cielo che non ce l'aspettavamo proprio un tragico episodio. Sulla dinamica dell'incendio invece quali sono le prime notizie? Non voglio dire condanno il gesto perché allo stato attuale parlando con i carabinieri non sanno ancora il motivo insomma dell'episodio però attendiamo notizie logicamente se sia di tipo doloso a monde il gesto viene condannato perché queste cose in una comunità come la nostra non devono succedere.